Daniele Cortesi è il coordinatore tecnico della Pallavoro Valdarno, quindi con lui possiamo chiedere lo stato di salute della società. Direi ottimo in questo momento, stiamo partendo con tutti i gruppi che sono molto numerosi, è arrivato delle nuove leve, siamo veramente soddisfatti, quest'anno si sta partendo a tutta birra, quindi speriamo che poi la stagione ci dia anche delle soddisfazioni sportive, però si parte col piede giusto. La prima squadra punta decisamente alla promozione, ma comunque uno dei vostri fiori dall'occhiello è soprattutto il settore giovanile che gode quindi di grande salute. Sì, assolutamente, siamo veramente soddisfatti, quest'anno da tanti anni siamo riusciti a coprire tutti i gruppi dal mini-volley fino alla prima divisione, quindi sono gruppi consistenti, siamo ragazze piene di entusiasmo, quindi siamo veramente soddisfatti. È importante anche aver creato un parco di allenatori di sotto livello? Questo di sicuro, anzi direi che è il nostro fiori all'occhiello, perché noi da un paio d'anni abbiamo un team di allenatori veramente di primo livello, sono ragazzi qualificati con dei gradi di preparazione molto alta e questo ci consente di far salire il livello di tutte le nostre squadre. Qualche anno fa avete festeggiato 50 anni, quindi un traguardo importante dal quale siete partiti con grande slancio. Sì, 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 è vero, è vero, per noi è un nuovo inizio, diciamo che il nostro primo mezzo secolo è finito, siamo ripartiti con il secondo e speriamo di arrivare lontano ancora per tanti anni.